Ecco signori, questa che ho alla mia destra è la linea proveniente da Mortara, ormai ci affianchiamo a 18 km, ho visto il cartello chilometrico, quindi credo che siamo a 18 km da Alessandria. Infatti adesso la linea si è in linea non elettrificata proveniente da Pavia, si è messa sulla linea Mortara-Alessandria, c'è un altro Stadler per Pavia. 17 km da Alessandria, perfetto erario, cioè come qualità di marcia, come treno, non è che sia il massimo comunque, erano nettamente più comode le ALN SS8, con il Carelli Fiat a doppio condicino, adesso questo non so che fiume è, ma credo che sia il PON. che non è in buone condizioni, siamo ancora all'inizio, che i prossimi giorni prevedono ancora sole, così c'è ancora chi crede che il clima non sta cambiando e ne vedremo delle belle. tra cui gli amministratori del mio comune di Nascita Melignano che hanno in mente cementificare praticamente tutti i 4 km quadrati del territorio, tagliare alberi, non rispiantarli, non mettere alberi in zone verdi, ho letto delle notizie oggi sul giornale che addirittura vorrebbe fare lo stadio, lo stadio, diciamo, il nuovo stadio di San Siro a Melignano, non so ragazzi se ridere o piangere, praticamente l'amministratore che non faccia il nome, è responsabile, dipende dal pubblico per capire le nostre tasse, guardate che bello c'è, questo credo che non so chi viene questa, a binario unico, forse arriva da, ecco, questo è un bel minuetto, proprio 001, no minuetto, ho sbagliato, questo è un minuetto, sì, minuetto elettrico, sì, bellissimo questo affiancamento ragazzi, non ne aspettavo.